Sono Simona Maestrelli, titolare della ditta Rufus, ditta di Nata Empoli nel 1981. Produciamo abbigliamento in pelle, shirling, impermeabili con pelliccia, gonne, pantaloni, vestiti, tutto quello che è relativo all'abbigliamento donna principalmente, facciamo anche qualcosa da uomo ma molto relativo. Il nostro mercato è un mercato non tanto imbottito con la pelliccia o shirling ma più che altro la pelle leggera, la pelle che non si sente neanche addosso e ultimamente stiamo vendendo bene l'elasticizzato, cioè la pelle elasticizzata che con un capo di una taglia 42 può vestire anche una taglia 48 proprio perché va dietro alle forme della persona che lo indossa, quindi è una cosa elastica. Produciamo tutto in Italia, tutto a Empoli da nostro personale interno e esterno, tutto però esclusivamente italiano nella precisione nempolese e niente, lavoriamo quasi tutto tramite le fiere che facciamo un po' in tutto il mondo, in Giappone, in Germania, in America, qui a Milano.